Era il 10 giugno scorso, in un caldo sabato estivo nel quartiere 1 di Firenze una bambina è sparita nel nulla. Si chiama Cataleya Alvarez, ha 5 anni e le ultime immagini che si hanno di lei sono riprese da una telecamera alle 15 e 13. Scende le scale esterne dell'ex hotel in cui abitava con la mamma e il fratellino e poi svanisce. A un mese di distanza, al di là delle segnalazioni sempre smentite, della piccola Cata non c'è traccia. Le indagini proseguono nel massimo riservo e sono molti gli indizi raccolti da carabinieri e PM che stanno esaminando anche il DNA di tutti gli occupanti dell'enorme struttura. L'inchiesta aperta è per sequestro di persona a scopo di estorsione, maturato secondo gli inquirenti nell'ambiente dell'ex hotel Astor occupato dal settembre 2022, molti conflitti all'interno per il racket delle camere e sgomberato dopo una settimana dalla sparizione della bambina peruviana. Ma è un fascicolo senza indagati e nessuna richiesta di riscatto è arrivata alla famiglia. Di sicuro la piccola non si trova all'interno dell'albergo scandagliato più volte dagli inquirenti in ogni angolo e meandro, comprese le fosse biologiche, perquisizioni che hanno coinvolto anche l'immobile adiacente ma senza risultati. Chi ha portato via Cata e da dove rimane un mistero. Immediata e continua fin dalle prime ore è stata la presenza della comunità peruviana che ha organizzato appelli e manifestazioni a sostegno della famiglia. Il ritrovo dell'ultima convocazione è alle 21 a un mese dalla scomparsa il 10 luglio in piazza della Piccola a pochi passi dall'Astor e si moltiplicano gli appelli soprattutto da parte dei genitori. Liberate Cata o almeno fatemi sapere se è ancora viva, continua a chiedere disperata la madre.